Un sabato sera quello della nostra redazione la riscoperta dei luoghi frequentati dai gruppi di giovanissimi che hanno creato qualche disagio in città negli ultimi tempi. Siamo partiti dalla zona di San Francesco dove abbiamo trovato ragazzi che sfruttando il buio e sfruttando la vegetazione si nascondono per fumare canne, per urinare sui muri della basilica prima di tornare a un'inerzia al gruppo vero e proprio che è stanzia in piazza San Francesco. Ragazzi minorenni che fanno uso di alcol, si sentono i rumori delle bottiglie di vetro, della birra, si sentono e si vedono dalle nostre immagini le bottiglie di plastica con cocktail homemade che poi vengono abbandonate senza il minimo rispetto nella piazza, come senza rispetto si ricorre a musica ad alto volume e a urla che disturbano comunque tutto il circondario. Passando invece in piazza del mercato abbiamo trovato una situazione tranquilla, una situazione serena, ragazzi che si trovano all'interno del tartarugone ma in completa armonia, senza creare disagio, senza creare problematiche alla città. Cosa diversa invece quella che viene riscontrata all'interno dell'orto dei Tolomei dove siamo arrivati subito dopo e nascosti ancora una volta nel buio sotto al gazebo i ragazzi si ritrovano ancora una volta per fumare, per bere, per lasciare il degrado dopo il loro passaggio e disturbare gli abitanti della zona con urla e musica ad alto volume. Ritornando successivamente in piazza del mercato abbiamo trovato una volante della polizia municipale intenta a monitorare una situazione che comunque risulta tranquilla. Tranquilla anche la situazione in piazza del campo dove però possiamo notare che gli assembramenti sono all'ordine del giorno, soprattutto senza l'uso della mascherina.